Si è tenuto a Roma un evento organizzato da The European House Ambrosetti con il contributo non condizionante di Pfizer, incentrato sul miglioramento della campagna di vaccinazione autunnale-invernale 2023-2024 contro il Covid-19. La necessità di questo momento di confronto tra istituzione e regioni deriva dai dati italiani che hanno rilevato una ridotta adesione alla campagna di vaccinazione, in parte a causa della chiusura degli hub vaccinali e delle difficoltà organizzative, ma anche per una sorta di fatigue vaccinale nella popolazione. L'importanza delle vaccinazioni credo che sia stata ampiamente dimostrata con la recente esperienza Covid. Siamo riusciti veramente a determinare un cambio di passo solo nel momento in cui un numero consistente di cittadini aveva ricevuto la vaccinazione e credo che questo ormai sia innegabile. D'altra parte i nostri pazienti, quelli che frequentano i nostri studi, sono da direi da 40 anni, da quando è nata la medicina di famiglia, abituati a ricevere periodicamente la vaccinazione anti-influenzale e questo ormai è un dato sostanzialmente assodato. Il nostro ruolo è proprio quello di avvicinare quelli che hanno timore, spiegare, far comprendere l'importanza delle vaccinazioni e devo dire anche superare per certi versi il percorso a ostacoli che purtroppo ancora rimane per noi medici per riuscire ad avere un numero sufficiente di dosi perché voglio ricordare a tutti che essere vaccinati è innanzitutto il diritto di ogni cittadino italiano. I dati di questi giorni sono molto incoraggianti nel senso che stiamo scendendo sempre di più come numero assoluto per quanto riguarda i positivi e anche l'incidenza. Resta però il tema della fragilità, il tema del vaccino alle persone più fragili. Quindi abbiamo già fatto una circolare alle regioni nei giorni scorsi invitandole ad aumentare la capacità di comunicazione, di convincimento dei cittadini e anche misure organizzative. Quali sono queste misure organizzative? Cercare di far sì che il vaccino sia un farmaco di prossimità, quindi immediatamente fruibile e accessibile al cittadino a partire dalle farmacie, dai medici di famiglia, dai mediati di libera scelta, ma anche lì dove la fragilità si esporre di più, negli ospedali, in particolare negli istituti in cui ci sono i pazienti oncologici, i pazienti con malattie cronico-degenerative. Nell'RSA noi dobbiamo intervenire in quei setting assistenziali perché, ribadisco, il vaccino sia un farmaco veramente di prossimità. Sicuramente il farmacista è l'operatore sanitario più vicino alla gente ed è per questo che è molto importante che sia impiegato in tutte le campagne vaccinali. La prossimità è soprattutto un professionista vicino alla gente e credo che il farmacista italiano abbia dimostrato dalla pandemia ad oggi di essere protagonista della sanità territoriale. Più vaccinazioni in farmacia per fare la prevenzione, per fare quella cederintola che in paese non riesce davvero a decollare, cioè fare i vaccini per fare prevenzione, fare prevenzione per curare i nostri cittadini. L'esperienza della pandemia ha portato il nostro paese a mettere in evidenza la necessità di dare una strutturalità di interventi di carattere educativo e preventivo, quindi della promozione delle vaccinazioni, a partire da quelle dell'infanzia a quella dell'HPV fino ad arrivare alle vaccinazioni necessarie per la popolazione non autosufficiente. Il tema dei dati, dell'interoperabilità dei dati è un elemento necessario sia nella fase del monitoraggio delle vaccinazioni che nell'indirizzo di campagne vaccinali appropriate e anche nell'ottica della fruizione. Serve però un sistema integrato che vada nei territori e che valorizzi tutti quei presidi e quegli hub che possono diventare hub di promozione vaccinale. Siamo preoccupati del ritardo che ha avuto l'approvazione del piano per la vaccinazione, auspichiamo che a questo punto l'implementazione sia la più rapida, coerente e strutturale possibile. Oggi abbiamo presentato una indagine che abbiamo realizzato sui cittadini italiani per capire qual è la loro opinione, qual è la loro attitudine e anche i comportamenti verso le vaccinazioni e verso la vaccinazione contro il Covid. Ricordiamoci che il Covid non è finito, abbiamo vissuto un'emergenza pandemica negli ultimi due anni ma il Covid rimane, è un'infezione che comunque è importante e pericolosa soprattutto per i soggetti fragili. Oggi abbiamo discusso di come a livello organizzativo e a livello di comunicazione i medici, le regioni, i farmacisti possano lavorare insieme, tutti insieme è meglio, per dare ai cittadini le vaccinazioni contro il Covid, le vaccinazioni contro l'influenza, l'opneumococco, il perpio e il giostro, tutte le vaccinazioni essenziali che un cittadino, soprattutto se è fragile, se è over 65, necessita. Ogni anno. Ecco, questo è l'argomento che abbiamo fatto oggi e l'impegno del Ministero della Salute di lavorare per campagne di comunicazione più efficaci, più chiare e più continuative nel tempo. Le strategie proposte e le leve essenziali per rilanciare le vaccinazioni sono governance, comunicazione e prossimità, comunicazione efficace e iniziative regionali. Per quanto riguarda il tema delle vaccinazioni nella regione Veneto abbiamo costruito una rete che si basa da un lato sulla comunicazione, sul fatto di fare in modo che le persone capiscono che la vaccinazione a qualsiasi età, ma soprattutto nell'età a partire dai 60 ai 65 anni, è estremamente importante per avere non tanto una vita lunga ma una vita in qualità. E quindi questo, uno degli strumenti, insieme agli stili di vita, è rappresentato proprio dalla vaccinazione. Abbiamo cercato di organizzare una rete che possa dare al cittadino, al sano, al soggetto con patologie, al soggetto con condizioni particolarmente severe, la possibilità di vaccinarsi. O nei centri vaccinali, con la governance del dipartimento, oppure nell'ospedale se ha condizioni particolarmente, diciamo, di fragilità, oppure nell'RSA, oppure principalmente attraverso il medico di medicina generale e anche attraverso le farmacie se è in una condizione di prossimità. Questa è la nostra rete che va incontro alle persone, perché la persona deve essere sempre al centro della prevenzione. E credo che la prevenzione sia l'unica possibilità, la principale possibilità, per garantire una vita qualitativamente migliore e speriamo più lunga. Siamo oggi qui a Roma in un momento importante di confronto tra alcune regioni italiane e le istituzioni centrali per riflettere sull'andamento della vaccinazione offerta nei confronti dell'adulto. Parliamo di vaccinazione anti-influenzale, vaccinazione anti-premococco e anti-herpes zoster, ma non meno della vaccinazione anti-Covid. La risposta della popolazione è soddisfacente per le tendine tra i vaccinazioni. Abbiamo qualche difficoltà in più sulle vaccinazioni anti-Covid, probabilmente il retaggio di quella che è stata la passata pandemia, su cui probabilmente la popolazione nutre da una parte una perplessità sull'esistenza ancora della necessità di proteggere i propri cari, le persone fragili attraverso le coperture vaccinali, probabilmente anche perché l'attenuazione dei sintomi non la rende probabilmente ancora visibile. Da questo punto di vista dobbiamo migliorare la comunicazione, far percepire l'importanza di mantenere alte le coperture vaccinali attraverso una serie di azioni e strumenti che stiamo mettendo in campo, come Regione Puglia e insieme alle altre regioni. Agiremo sicuramente su un rafforzamento della comunicazione, anche sui canali social, sui canali digitali, sostanzialmente attraverso strumenti anche innovativi, con il coinvolgimento dell'associazione del terzo settore, sollecitando soprattutto la sensibilità degli operatori sanitari, medici medicina generale, pediatri di Bracelza, che nel nostro caso sono già coinvolti in tutte le campagne vaccinali, ma anche la rete delle farmacie, e soprattutto offrire la vaccinazione in tutti i punti di contatto delle persone col servizio sanitario, quindi introdurre la vaccinazione nel PDPA, introdurre la vaccinazione in tutti i percorsi di presa in carico dei pazienti, in ogni dove, e da questo punto di vista sarà fondamentale il ruolo e la convinzione degli operatori sanitari. Questa giornata è molto importante di confronto tra Regioni per fare un monitoraggio su quello che ad oggi lo stato della immunizzazione, quindi della vaccinazione obbligatoria, è quella prevalente e dedicata alle malattie respiratorie. La nostra Regione ha deciso di mettere insieme le tre principali malattie respiratorie, anche se non stagionali, e quindi oltre all'influenza, il Covid e la polmonite da pneumococco dell'ulta 65 anni. E troviamo che questo sia molto importante perché spesso le sintomatologie si possono accavallare e quindi creando molti problemi all'organizzazione sanitaria e andando ad appesantire molto l'assistenza ospedaliera. Questo compito è stato demandato principalmente a tre protagonisti, i centri vaccinali pubblici, i medici di famiglia perché sono molto vicini e quindi rappresentano la prossimità, ma hanno anche la capacità di monitorare le sindrome respiratorie e quindi partecipare anche a una rete di monitoraggio e le farmacie territoriali che sono dei veri e propri punti di cura, ormai l'hanno dimostrato durante il Covid e riescono ad essere ancora più capillari dei medici di famiglia perché sono presenti in tutte le piccole comunità e laddove non ci sono come farmacie private convenzionate, lo sono come farmacie pubbliche e quindi Assofarm ha aderito a questa campagna. Naturalmente abbiamo per ogni categoria targettizzato gli interventi, i servizi sanitari pubblici oltre a fare le obbligatorie fanno anche la triplice vaccinazione e in più fanno anche l'herpes zoster in aggiuntiva per questa categoria e in particolare si dedicano anche alle attività che riguardano gli operatori sanitari, che è molto importante vaccinarli, quindi ci siamo dimenticati di queste persone ma una forma di prevenzione nella prevenzione, gli operatori sanitari e anche il pubblico pediatrico perché il pediatra, a differenza del medico di famiglia, spesso non aderisce a queste campagne, anche se una quota dell'immunizzazione è dedicata proprio ai bambini da sei mesi a sei anni. Abbiamo anche creato meccanismi di incentivi per queste protagoniste della vaccinazione, soprattutto per i medici di famiglia, ai quali abbiamo dato un incentivo a seconda del target che riusciranno a raggiungere. Grazie.